Io sto facendo in modo, attraverso l'attività amministrativa, che nulla possa essere revocato della notevole massa finanziaria che noi abbiamo attratto all'Abruzzo. Parliamo in 52 mesi di circa 3 miliardi di euro. Oggi abbiamo avuto conferma di un'ulteriore tranche di finanziamenti concernenti investimenti riguardanti l'edilizia scolastica, investimenti riguardanti il patrimonio sportivo della nostra Regione, della messa in sicurezza di giacimenti anche ambientali e turistici. Parliamo di risorse per quanto riguarda Tollo, Arielli, Abbateggio, Cerchio, Roccaraso, Cugnoli, Montesilvano. Ma voglio anche mettere in evidenza come per la prima volta abbiamo avuto risorse attesi da 20 anni per la palestra del Corradino d'Ascanio a Montesilvano e per la palestra per il liceo scientifico Galileo Galilei a Pescara. 20 anni di attesa per avere queste risorse, così come 600 mila euro di piattaforma informatica per il soggetto aggregatore. Sono tutte risorse a carico del bilancio dello Stato che ieri la Corte dei Conti ha pienamente validato circa la copertura contabilistica. Da oggi le amministrazioni possono procedere a fare i bandi di gara e ad assumere gli obblighi giuridicamente vincolanti. La prossima settimana faremo una nuova conferenza stampa, poiché abbiamo avuto anche lì contezza di copertura contabilistica validata dalla Corte dei Conti per una serie di opere riguardanti Francavilla, Roseto, riguardanti la Fondo Valle Sangro Ferroviaria, riguardanti il porto di Pescara, riguardanti cioè quel numero di investimenti che abbiamo sottoposto al nostro lavoro nelle ultime settimane. Allora io sto rimanendo a fare le due attività, anche con una fatica fisica che non mi spaventa, perché voglio rendere irrevocabili le risorse, voglio rendere i dossier amministrativi capaci di portare alla cantierizzazione e questo è quello che oggi ho comunicato avendo accanto i sindaci e i vertici scolastici.